Sotto canestro la coppia Ineschi-Isley. È iniziata la partita. Primo possesso umana Reier-Venezia. Clark, Young, Clark in palleggio. Riceve Shevchik post basso per William. Subito ottima combinazione per Venezia. Sì, un'ottima combinazione. Questo abbiamo visto invece su questa metà campo quale può essere la difficoltà della Reier, cioè di contenere lunghi come Isley che sono molto, molto dinamici. Young per Williams. Ottima azione di Venezia che attira su di sé due giocatori lasciando il libero Williams. Nell'esecuzione di un arresto e tiro con l'uomo addosso. Ha fatto canestro. Bravo lui. Williams in post basso ribalta per Bowers. È tornato sul parquet. Ancora Williams. Si gira il canestro di Williams. Il tiro che la Reier voleva in questo momento. Io posso garantire che Williams, quando riceve la palla in prossimità, diciamo, dello smile, è praticamente un giocatore immarcabile. Oggi dell'azione. Clark. Difesa schierata di Sassari. Young riceve posizione di guardia. Clark attende il blocco di Williams che arriva con un attimo di ritardo. Poi gioca con l'ombra di Williams lo scarico di Young per Williams e ne nasce un'azione molto efficace. Qua bisogna dire, Sassari ha provato a cambiare la difesa sul pick and roll. Prima difendeva con l'aiuto e il recupero del Lusky. L'uno contro uno del francese. Si gira lo scarico per Clark. 10 secondi per andare al tiro. Diavara ancora la penetrazione, l'errore e poi arriva Williams a sistemare tutto. Sì, qua Diavara ha battuto il suo uomo, ha provocato l'aiuto del difessore di Williams. Ovviamente il tiro non è andato a bersaglio, però è rimasto libero Williams che ha potuto eseguire un comodo. Scherchick, Diavara e Williams. Questo il quintetto a rogranata. La finta di Scherchick che fa saltare Isley. L'errore. Poi il pallone recuperato da Williams che poi trasforma altri due punti. Williams, 12 punti personali, 50 Reier, 45 Sassari. Due falli di Isley, l'ultimo speso proprio su Williams poco fa. Tanto l'invasione riprova dalla lunetta Williams. Questa volta va a segno. 51 a 49 per la Reier.